Trapani, città del mare, del sole, del vento, ma a quanto pare anche di ottimi cantanti. Infatti, dopo l'eccellente performance della professoressa Giovanna Sorrentino, che venerdì scorso ha molto ben impressionato con la sua interpretazione di Sola, brano Soul portato al successo da Nina Zilli, ieri sera a rubare la scena è stata Caterina Greco, che a The Voice Senior ha portato, oltre a tante immagini di Trapani, anche un brano in siciliano, a finescia di Carmen Consoli. È stata un'esperienza forte, emotivamente in primis, soprattutto perché io ho voluto mettere in evidenza, non tanto me stessa, ma soprattutto la mia città. Infatti, nel corso della trasmissione sono stati dati, penso, quasi un minuto a far vedere le immagini della città di Torre di Lignie, non soltanto. Gli autori che sono venuti poi a fare il video qui a Trapani sono veramente rimasti colpiti dalle nostre zone. Poi quel giorno c'era addirittura il mare un po' in tempesta e questa cosa li ha lasciati proprio emotivamente, veramente molto, molto colpiti. Ma parliamo anche di musica. A finescia, hai interpretato a finescia, quindi sul Rai 1 in prima serata, oltre a S. C. Trapani c'era proprio il dialetto siciliano. Come mai hai scelto questa canzone? A finescia è una canzone che noi spesso abbiamo fatto nei nostri concerti, nelle nostre esibizioni. E il riscontro che abbiamo avuto è sempre stato veramente, veramente molto, molto sentito. Ma non solo da parte di un pubblico, diciamo, locale, ma soprattutto anche da parte di gente che non è siciliana. Hai scelto Loredana Bertè. Che cosa ti aspetti che possa accadere stando in team con la Bertè? Ma la Bertè è un tipo un po' così, insomma, che conosciamo un po' particolare. Boh, vedremo e poi magari ne potremo riparlare. Grazie a tutti.